Sconsiglio a tutte le giovani di rifarsi il seno, è un errore di cui ci si pente, è l'appello lanciato da Anna Falchi con una telefonata a sorpresa alla trasmissione La Vita in diretta di Rai 1. L'attrice ha chiamato il programma che aveva appena mandato in onda un filmato sulle star che hanno fatto ricorso alla chirurgia estetica, citando tra le tante anche lei, ed ha chiesto di parlare per fare il suo mea culpa. Sì, è vero, ha esordito, io mi sono rifatta il seno molto giovane per essere maggiorata, ma è una cosa che sconsiglio a tutte le ragazze, io me ne sono pentita, è un errore, è una cosa anche pericolosa, in più ogni tanto bisogna sostituire le protesi, per me non c'è dubbio, meglio un seno naturale anche con qualche difetto, mi dispiace per i chirurghi ma io lo sconsiglio, ha ribadito l'attrice concludendo.